Floriana Secondi è tornata insieme all'ex fidanzato Daniele Floriana Secondi fidanzato, è tornato il sereno con Daniele. . Ritorno di fiamma per Floriana Secondi. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, nonché opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live, è tornata insieme all'ex fidanzato Daniele. . A farlo sapere il settimanale spy, che ha immortalato la coppia tra baci, coccole e carezze durante un weekend alle rinomate terme di Saturnia. . I due sono stati legati nel 2012 ma poi la storia si è interrotta bruscamente. . A distanza di tempo l'ex Effina e l'imprenditore hanno deciso di riprovarci. . E proprio come tanti anni fa la passione è alle stelle. . Nelle foto pubblicate dal nuovo settimanale edito da Mondadori non mancano tenere effusioni che mostrano la complicità della coppia. . Che dopo l'addio è pronta a ricominciare e dare nuova linfa vitale a questo rapporto. . Chi è Daniele il fidanzato di Floriana del Grande Fratello?. . Il fidanzato di Floriana Secondi ha 30 anni ed è un imprenditore di origini calabresi che vive da tempo a Roma. . In passato la coppia era sul punto di sposarsi ma la perdita del bambino che aspettava la Secondi ha allontanato i due. . Floriana è stata vittima di un aborto spontaneo, era incinta proprio di Daniele. . Un dolore che ha allontanato la coppia, come raccontato dalla diretta interessata. . Che prima di conoscere Daniele ha avuto il figlio Domiziano dall'ex marito Mirko. . Superati i rancori del passato Floriana e Daniele hanno deciso di dare una seconda sciance alla loro storia d'amore. . . Che sia la volta buona. Teniamo le dita incrociate. . 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